Buongiorno carissimi, bentrovati in questo sabato della trentesima settimana del Tempo Ordinario. Ancora la lettera di San Paolo Apostole Filippesi ci accompagna, oggi siamo al capitolo primo, però ai versetti 18-26. Paolo è felice e contento perché il Vangelo viene ancora annunciato, il messaggio di Cristo viene propagato e anche se lui dovesse morire sta tranquillo e beato perché questa consapevolezza della continuazione dell'evangelizzazione lo rassicura. La morte per lui viene vista come un guadagno, un guadagno supremo perché si ha la possibilità di intraprendere una comunione eterna con Cristo, un'unione totalizzante con il Signore, però nello stesso tempo non vuole venire meno i suoi impegni di Apostolo e quindi rimanere nella carne, ecco, è anche permettere una predicazione maggiore e via di seguito. Nel brano del Vangelo di oggi siamo al capitolo 14esimo di Luca, i versetti 7-11. Gesù sta dentro casa di un capo dei farisei, la gente lo sta a osservare e racconta di una parabola dell'invitati alle nozze, del primo e dell'ultimo posto. Se tu prendi il primo posto, dopo verrà una persona più ragguardevole di te, gli dovrai cedere e quindi con vergogna andrà a finire all'ultimo posto, mentre se scegli l'ultimo posto vedrai come il padrone di casa ti farà andare al primo posto perché chiunque si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. Bene, cosa ci vuol dire il Signore? Innanzitutto dobbiamo cercare di avere nella nostra vita una coscienza realistica che ci fa vedere anche il posto che occupiamo all'interno della società, la responsabilità che ci ha affidata, il compito che dobbiamo svolgere perché quando ci rendiamo conto che tutto è un dono, noi ci mettiamo a servizio degli altri mettiamo a servizio anche le nostre qualità senza l'autoesaltazione, manie di grandezza perché se cerco di predominare sugli altri, vado a finire in fondo alla fila invece se cerco la crescita del bene e anche la promozione dell'altra persona gioisco, gioisco per questo bene ma nello stesso tempo ecco avrò quel posto davanti perché non miro all'autoesaltazione ma miro soltanto a comprendere che tutto quello che sono è un dono per me e per gli altri, per l'identificazione del Regno di Dio, né più e né meno. Quindi ecco perché oggi vogliamo vivere la nostra giornata pensando alla nostra esistenza con una coscienza appunto realistica. Bene auguro a ciascuno di voi di vivere una buona e santa giornata e un augurio di un felice, sereno e piacevole compleanno alla carissima Rita. Un abbraccio fraterno a ciascuno di voi e ci vediamo domani per iniziare insieme il mese di novembre nella bellissima solennità di tutti i santi. A domani.